buongiorno a tutti allora magliettina come sempre intanto vado avanti a parlare intanto che la guardate perché dobbiamo andare a raccontare l'incontro tra benfica e milan che si è disputato l'altra notte anzi ieri sera alle 21 domenica alle 21 quindi andiamo a vedere come è andata alla partita ma prima volevo dire un attimino una cosa su come cavolo si fa a vendere Cutrone a 18 milioni io francamente poi vabbè qualcuno commentando il fatto se non erro su non so se è sul canale mi sembra sul canale di Neschio c'era un ragazzo forse in un sito su Facebook esattamente dove non me lo ricordo però mi ricordo cosa ha scritto ha detto ma tanto non sa stoppare la palla allora Icardi non sa stoppare la palla Cutrone non sa stoppare quell'altro non sa tutti i centri avanti a parte Ibrahimovic oramai perché oramai a parte Ibrahimovic nessun attaccante sa stoppare la palla però chissà come mai tutti questi seodobidoni che non sanno stoppare la palla segnano un caterve di gol no perché spiegatemelo c'è gente che sa trattare benissimo il pallone li vedi nei video no che stanno lì a palleggiare ti stanno a palleggiare se potessero 24 ore su 24 senza far cadere la palla poi gli si chiede ma giochi in qualche no gioco solo a livello amatoriale invece quelli che non sanno fare questi palleggi e non sanno stoppare la palla fanno 29 gol in campionato no spiegatemelo perché io non riesco a capirlo detto questo 18 milioni per Cutrone proprio è regalato regalato come diceva ieri Papirus sa saperlo lo prendevamo noi al Parma abbiamo speso 20 per inglese ne spendevo 18 per Cutrone e magari ci guadagnavo pure comunque detto questo andiamo a vedere come è andata Benfica Milan che è meglio perché io aspetto di vedere a quanto svenderanno i cardi che già me li immagino comunque pronti via azione di Silva che porta un po' a spazio a spasso la difesa rossa o nera se rinvito al limite nera l'area vi entra si sposta un po' a destra un po' a sinistra alla fine gli vanno addosso in quattro in tre o quattro lo circondano però lui riesce lo stesso a tirare a giro ma la palla non gira a sufficienza e termina sul fondo comunque è stato divertente vedere lui che ha preso palla al limite ha iniziato a fare vedete quando fanno ti tiro no non ti tiro mi sposto la palla ti tiro no non ti tiro sposto il giocatore lì che fa il terzo cristallo al settimo ci prova Tarapt stavolta il tiro a giro è verso la porta ma per Donnarumma è un gioco da ragazzi tuffarsi non bloccare la palla ma tenerla lì rimbalza e poi lui la recupera comoda all'ottava ancora Benfica ma il tiro viene smorzato da un difensore Donnarumma si deve tuffare semplicemente per evitare che la palla termina termina in calcio d'angolo al quattordicesimo c'è un cross di Tarapt dalla destra ben bloccato da Donnarumma in tuffo la palla comunque arrivava bassa poi subito dopo c'è un'azione del Milan palla per Castillejo ma il portiere del del Benfica esce in presa bassa su Castillejo subito dopo però al sedicesimo il Milan si fa veramente pericoloso con un gran tiro di Suso da fuori area la palla supera al portiere gole 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 invece palo palo alla sinistra del portiere al diciottesimo ancora Castillejo ben servito in area vi entra il portiere è bello vedere l'immagine da dietro dell'uscita tranquilla del portiere su Castillejo che è in area lui fa quei due o tre passi per chiudergli lo specchio Castillejo prova il tiro ma è bravissimo il portiere a tuffarsi a respingere alla sua sinistra al ventiduesimo c'è un corner per il Milan il portiere esce di pugno classico uscita di pugno palla che arriva al limite dell'area vertice sinistro dell'attacco del Milan un tiro al volo di Hernandez e il portiere si tuffa alla sua sinistra e respinge poi abbiamo un bel lazzo ancora al Milan in attacco con un bel colpo di testa palla che arriva sul secondo palo colpo di testa schiacciare ma non poteva fare granché perché era proprio praticamente sul fondo la schiaccia il portiere lì che l'aspetta e la mette in calcio d'angolo al ventiquattresimo c'è un tiro di Castillejo che viene respinto davanti alla porta c'era un batti e ribatti la palla è arrivata a lui e si è girata ha tirato ma gliel'ha presa non so se un suo compagno o un difensore poi è stata allontanata era un tiro pericoloso perché comunque era nello specchio della porta al ventisettesimo ancora Suso da fuori area palla stavolta esce di tanto così sul fondo dal palo alla sinistra del portiere comunque è un buon Milan all'inizio era un po' così così e poi dopo invece si è risvegliato al quarantatresimo no prima ancora c'è un tiro di Piontek no al quarantatresimo c'è Piontek servito in area o meglio lui è ad avventarsi su un cross basso a calciare ma apre troppo l'angolo palla di un nulla a lato al quarantaquattresimo c'è l'azione del Benfica tiro da dentro l'area di rigore ma vola Donnarumma alla sua destra e para poi al quarantatresimo ancora Benfica e stavolta questa è un'azione più pericolosa che fa il paio con l'occasione di Castileio perché più o meno siamo nella stessa situazione anzi ancora più difficile perché Silva entra centralmente quindi appena dopo il dischetto del rigore calcia un rigore in movimento anche da più vicino tra virgolette ma Donnarumma è bravissima a tuffarsi alla sua destra e a respingere però bisogna ammettere che il tiro dell'attaccante non era angolatissimo e questa è l'ultima occasione del primo tempo il secondo tempo i primi 20 minuti sono lesionanti per i testi poi al ventiduesimo c'è una bella punizione del Benfica dal limite dell'area batte Pizzi la barriera era messa allora c'erano i quattro giocatori o cinque in barriera c'era una bella barriera poi c'erano gli altri giocatori messi così la palla passa proprio nel mezzo ma Reina è lì che l'aspetta e la respinge di pugno perché comunque era una bella botta e poi al settantesimo arriva il gol del Benfica perché c'è questo tiro di Tarapt senza nessuna pretesa da fuori area il difensore del Milan anziché lasciarlo mette il piedino vede arrivare la palla mette il piede fa quella deviazione che praticamente spiazza Reina che si era tuffato alla sua sinistra e la palla si infila nell'angolino proprio nell'angolino alla sua destra e quindi il Benfica passa in vantaggio il Milan ci prova a recuperare ma non riesce a trovare il pareggio e quindi becca un'altra sconfitta per 1-0 dopo quella con il Bayern Monaco adesso c'è anche questa con il Benfica però bisogna dire che sia col Bayern Monaco che l'ho vista sia questa che mi sono visto un po' la partita ieri sera e un po' gli highlight oggi per farvi un resoconto ben preciso di occasioni il Milan ne ha avute più o meno forse qualcuna di più se vogliamo essere precisi forse qualcuna di più rispetto al Benfica alla fine della fiera ma più o meno la partita è stata equilibrata penso che il pareggio sarebbe stato più giusto ahimè come dico sempre gli episodi spesso e volentieri fanno la differenza nelle partite quando sono molto equilibrate in questo caso è un autogollonso sfortunatissimo se non erro era di conti ma non perché rovinare tanto il gol è andato a Tarappi lasciamola a lui non mettiamo la croce su uno dei giocatori del Milan che ha giochicchiato benino detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao